Cari amici, non so se avete notato che in questi giorni è tutto un proliferare di antifascisti in assenza di fascismo. Sui giornali di oggi ci sono molti commenti che riguardano il fascistometro, che sarebbe un gioco, un test inventato dalla scrittrice Michela Murgia per fare pubblicità sul suo nuovo libro, Istruzioni per diventare fascisti. Il test lo trovate facilmente in rete e se avete voglia di farlo potrete constatare che la Murgia ci considera tutti quanti un po' fascisti, specie se non siamo d'accordo con i dettami del politicamente corretto in materia di immigrazione. Ma nei giorni scorsi è uscito anche un dibattito molto interessante tra la Murgia stessa e un'altra scrittrice Elena Janecek. Il dibattito è interessante non per l'antifascismo delle scrittrici, ma perché non si capisce cosa intendano per fascismo. Alla fine è fascismo tutto ciò che non è di sinistra e tutto ciò che non è politicamente corretto, specie anche in questo caso in tema di immigrazione. Quindi il fascismo diventa una categoria morale, il fascismo che è in noi e non è più invece una categoria politica che si rifà a un movimento ben preciso che aveva caratteristiche ben precise. Ma la storia comunque non è al centro dei pensieri dei rifondatori dell'antifascismo. Infatti nessuno propone una riflessione su cosa sia stato l'antifascismo in Italia. In Italia l'antifascismo è stato egemonizzato dal partito comunista grazie a una corta propaganda e di conseguenza abbiamo avuto tonnellate di antifascisti che non erano anticomunisti. Peccato che per appartenere alla famiglia democratico liberale sia indispensabile essere sia antifascisti sia anticomunisti. Ma perché è tornata a essere un'ossessione quella del fascismo per la sinistra? È questo il tema su cui dobbiamo interrogarci? Io provo a dare una risposta perché tramontato il socialismo reale, abbandonato il marxismo, come unico collante rimane per la sinistra il non cadiamo negli errori del passato, cioè non ricadiamo nel fascismo. Questo però implica che si debba trovare ogni giorno un nuovo fascista, questo in un periodo in cui di fascisti veri non ce n'è quasi nessuno in giro. Di conseguenza perché la sinistra abbia ancora un senso politico è necessario dare del fascista a chi fascista non è e dare del razzista a chi razzista non è. Questo ovviamente ha delle conseguenze molto gravi perché chi accusa di fascismo una persona che non è fascista non rischia nulla se non di prendere gli applausi. Viceversa l'accusato rischia di perdere tutto e questo non va bene. Chi vuole vivere in una società così? Io no di certo.